Ed eccoci qui ancora una volta per annunciarvi una scena spettacolo al castello di Perano, nella città di Perano, il 22 sabato di aprile. Mi raccomando, non mancate, staremo in compagnia del DJ Giovanni Annese. Un bacio a tutti. A te la vuoi far vedere? No, fanno... non lo so.